Dopo i due filoni lucani sull'inquinamento del centro Oli dell'Eni a Vigiano dove la produzione è sospesa e sulla realizzazione di Tempa Rossa della Totala a Corleto-Perticara emerge ora anche quello siciliano sull'attività dell'autorità portuale di Augusta in cui è indagato l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi. I magistrati nei prossimi giorni andranno a Roma per sentire il ministro per i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e l'ex ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. Le sue dimissioni sono state rassegnate in seguito al clamore provocato dall'ormai nota intercettazione di una telefonata con il compagno Gianluca Gemelli in cui si parlava del via libera a un emendamento che avrebbe favorito la Total. Lo scorso 22 marzo il GIP di Potenza Michela Tiziana Petrocelli ha rigettato l'istanza di arresto per Gemelli che nelle scorse settimane ha chiesto attraverso il suo legale di essere ascoltato dagli inquirenti. Ma la procura di Potenza ci riproverà e presenterà quindi appello per ottenere la misura cautelare nei confronti del compagno dell'ex ministro. Proprio Gemelli è al centro anche del filone siciliano. Le indagini sono ancora in corso e quindi i magistrati mantengono il massimo riservo ma di certo in questi mesi hanno cercato di fare luce sugli affari della lobby del petrolio che aveva mire in particolare sull'attività dell'autorità portuale di Augusta. Il rapporto utilizzato da diverse multinazionali, dall'Eni, all'Eso, dalla Lucoil alla Sasol, tutte con investimenti nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo ma non dalla Total. Le accuse nei confronti di De Giorgi e di almeno altre sei persone sono a vario titolo di associazione a delinquere finanziata al traffico di influenze illecite e concorso in abuso d'ufficio.